ok, ti registra 220 220, sì 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 2, 3, 4 Sì, la parte della ripresa, questa qui la mettiamo dopo del trio, quindi trio e ripresa, esatto, riparto dal trio, 1, 2, 3, 1, chiudo, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 1, two, three, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.